Sono un sacerdote, sono venuto a vedere questo evento ma semplicemente per comprendere perché se ne dicono tante intorno a questa situazione che io non accetto e dove ho un confronto molto forte con la mia chiesa che non riesce a prendere una decisione netta e vera. Lei è un sacerdote della Curia di... Io sono un sacerdote italiano, sono della diocesi di Salerno però voglio dire sono venuto qui perché sono 32 giorni che si fa una battaglia in televisione quindi io personalmente sono venuto venire qui per capire ma credo che il Vescovo dovrebbe in certo qual senso dire sì o no perché dinanzi a delle verità, dinanzi a delle situazioni, la moltiplicazione della pizza e quant'altro ma qui di sovrannaturale non c'è niente. C'è l'unica cosa vera, almeno da quello che io vedo, è che la gente arriva qui, prega e ti posso garantire che io sono da ieri sera qui sono venute persone da me a dirmi aiutatemi ma aiutatevi da che cosa? Dico soltanto che tutto ciò che accade, accade sicuramente per volere di Dio sì o no? Questo noi dobbiamo scoprire. È un volere di Dio? Può essere un punto scuro perché nel momento in cui sento delle cose mi chiedo, io come credente ma soprattutto come sacerdote può essere vero? Può essere che la Madonna dica tutto questo? Può essere che la Madonna possa fare tutto questo? e mi pongo delle domande. Ma io credo che in questo momento la Chiesa sta valutando bene la situazione la Chiesa per certi aspetti sta cercando non perdere tempo ma sta cercando di capire bene però io da prete, da un povero umilo sacerdote dico non è che ci vuole tanto per comprendere se è vero o è falso ho i miei dubbi che la Madonna possa apparire perché la Madonna non dà segni di sfracello segni di preti che se non accettate quello che vi dico io voi andrete all'inferno noi all'inferno ci andremo sicuramente perché non riusciremo ogni giorno a portare l'amore di Dio a portare dei segni visibili nelle famiglie che sono sconquassate c'è il papà che crede, la mamma no, c'è il figlio che dice non c'è andare e quando c'è divisione in questa situazione mi sembra che di Madonna non so quanto ce ne sia